qua siamo a torre melissa e questa è la situazione della 106 guarda un attimo sta macchina come sta guarda quest'altra macchina un attimo guarda un attimo il cassonetto è stato ribaltato sulla 106 quella mercedes è messa di lato guarda un attimo qua c'è proprio un fiume di acqua guarda un attimo un attimo è impossibile guarda l'anno scorso qua è già con la d'un ponte la signora la posta la possiamo lasciare qua dove l'abbiamo lasciata ieri mattina guarda un attimo qua è completamente piena d'acqua alla strada il tempo è di là ma si vede anche se non avevo tempo ma con quelli si macrono guarda che c'è gente proprio più competente, questa casa è bloccata aca è festeria, guarda guarda quest'altro qua, guarda un attimo qua la strada è tutta piena e meno male che era si, si